Ciao ragazzi sono Red Attentive, oggi sono qua con un nuovo video sul canale del clan, sono qui con un gameplay di Red, si tratta forse della doppia datomizer più veloce al mondo in solo su TDM, mi sembra che sia in 2 minuti e 55-59, non lo so benissimo. Comunque non sono qui a parlarvi del gameplay, oggi sono qui a parlarvi delle notizie inerenti al prossimo Call of Duty, visto che vi sto facendo questo video diciamo abbastanza straordinariamente, anche uscirà un orario un po' insolito, visto che se non sbaglio dovrebbe uscire alle 12.30, adesso sono le 12 e sto facendo il commentary, quindi dovrei riuscire a farlo uscire alle 12.30 senza nessun problema, perché comunque raga oggi stanotte è successa una notizia abbastanza importante, ovvero il noto youtuber inglese Eliei, non so se lo conoscete ma penso di sì lo conoscono praticamente, tutti, ha pubblicato sulla sua pagina facebook delle foto che ritraevano degli screenshot rubati per quanto riguarda il prossimo Call of Duty, lo screenshot nel particolare riguarda Call of Duty e c'è scritto World War 2, ovvero Seconda Guerra Mondiale, quindi è praticamente sicuro che sarà ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, ovviamente si tratta sempre di rumor raga, però comunque penso sia abbastanza affidabile, visto che comunque Eliei è uno degli youtuber più noti sulla scena mondiale per quanto riguarda Call of Duty e poi comunque avevano già anticipato che il prossimo COD sarebbe stato ambientato nel passato, quindi diciamo è da prendersi con le pinze, però ritengo che sia abbastanza veritiero e che quindi il prossimo Call of Duty sarà ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Non ho idea del titolo, potrebbe chiamarsi Call of Duty World War 2 appunto come c'è scritto lì, però potrebbe anche cambiare o essere World at War 2 come c'era già stato il primo World at War sviluppato dalla Treyarch, però questa qui è l'unica diciamo incongruenza che noto, visto che comunque quest'anno in teoria per la legge delle tre case produttrici dovrebbe uscire un Call of Duty targato Sledgehammer Games, quindi non ne sono totalmente sicuro, Sledgehammer sono quelli che hanno fatto Advanced Warfare, però potrebbe anche cambiare i piani eccetera, farlo magari la Treyarch, io onestamente spero lo faccia la Treyarch perché onestamente i giochi della Treyarch sono i miei preferiti, a parte Modern Warfare 3 che veramente è uno dei miei giochi preferiti, e comunque sono in generale contento diciamo di questo ritorno nel passato per la serie di Call of Duty che farà forse tornare gli amanti della saga, forse il gioco però potrebbe avere dei problemi visto che comunque la fanbase attuale di Call of Duty è abituata a questi giochi con i doppi salti, i quali possono essere Black Ops 3 e Infinite Warfare, ci sarà da vedere come la prenderà la fanbase attuale di Call of Duty, visto che comunque noi siamo utenti storici, siamo veterani in COD, mentre quelli che comunque comprano i giochi diciamo è più gente che è abituata a questi nuovi COD attualmente, niente raga, qui il video sto aggiungendo al termine, fatemi sapere che cosa ne pensate, qua sotto, boh io onestamente sono abbastanza contento e niente raga, vi chiedo di lasciare un bel like e ci si becca al prossimo video, bella! Ciao!